Oggi facciamo la carta paglia! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai! Carta, forbice e mateta, coloriamola un po' noi! Corri, porta i tuoi colori, c'è Giombretta sul canale! Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te! Questa è Arte per te! Arte per te! Oggi sarà proprio così! Perché vedrete che con quello che abbiamo in casa prepareremo una carta bellissima con cui potremo fare anche in questo caso 200 cose dalla confezione dei pacchettini, delle bustine scrap, dei supporti per pittura nel senso che ci sono delle pitture materiche che prevedono dei fondi misti diciamo che le carte si attaccano sulla tela e ci si può dipingere di sopra o semplicemente sfruttare la texture della carta per dare consistenze diverse all'opera ma anche di questo potete costruire oggettini, foderare rubriche, fare un po' quello che vi piace e che fareste con quella comprata nei negozi e allora spostiamoci sul nostro piano da lavoro e andiamo a preparare insieme la nostra carta paglia ed ecco l'occorrente per creare la nostra carta paglia innanzitutto partiamo dal supporto, dalle carte io ho qui della carta pacchi, questa è un po' lucida qualunque carta di queste va bene, sono queste così un po' a righine la carta da imballaggio per intenderci oppure a me piace anche molto fare questo tipo di carta con le buste, queste color cartone, le buste naturali nei supermercati molto spesso però si trovano con i loghi dei negozi che andrete a scartare oppure se usate l'interno e non vi interessa questa parte cioè se la carta per esempio dovete appiccicarla da qualche parte quindi un lato non si vede, potete usare l'interno ed è tutto recuperabile quindi è un progetto pieno di riciclo e di utilità dopodiché ci occorrerà una colletta fatta al 50% di acqua e al 50% di vinavil quindi preparatela in un bicchierino, non tantissima poi un pennello, possibilmente piatto un paio di forbici e dei colori, acquarelli che si avvicinino come tono di colore alle tonalità della nostra carta pacchi ho preso qui un ocro, un terra di siena vanno bene entrambi, io li miscelerò perché le mie carta pacchi stanno in mezzo a queste due tonalità della rafia naturale, un pochino di rafia che naturalmente non ci sarà bisogno di comprare a rocchetto io le ho perché ci lavoro ma molto spesso nelle bomboniere, nei regalini ci vengono inseriti questi finestrini in rafia allora da oggi conservateli, metteteli tutti in un cassetto, arrotolateli insieme e all'occorrenza utilizzateli per fare le carte vi ho fatto vedere già la simil carta riso che aveva delle inclusioni anche la carta paglia naturalmente ha delle inclusioni delle inclusioni di paglia appunto dei tovagliolini di carta è un piattino cominciamo subito ritaglio la parte della carta che mi interessa dalla busta quindi la depuro da loghi, loghini e tutto quello che c'è mi ricavo un pezzo di carta ricavo la mia carta e la metto da parte quindi prendo la rafia pochina, non tantissima, veramente pochina io dove vedo dei capetti taglio un po' e piano piano anche qui manualmente quindi sgrotolate qualche pezzettino di rafia rendetelo più grande spezzatelo a diverse misure qualcuno lasciatelo a bastoncino a questo punto prendiamo la nostra carta prendiamo la nostra colletta apriamo il nostro tovagliolo di carta che non sia troppo spesso questo già è molto molto spesso perché naturalmente lo spessore porta opacizzazione al tutto diamo una prima mano di colletta su tutta la carta versate un pochino di paglietta col pennello poi ad uno ad uno assicurate i pezzetti sulla carta quindi ripassateci abbondantemente fatte aderire tutte le inclusioni prendiamo il nostro tovagliolo di carta e apponiamolo sopra e sempre con la colletta dal centro verso l'esterno imbibbiamo ben bene facciamolo prima con la colletta al naturale questo lavoro perché è la prima parte che serve soprattutto per far rimanere i pezzi al loro posto diciamo così perfetto a questo punto prendiamo i nostri colori acrilici e creiamoci un colore che sia simile a quello della nostra carta con il pennello appena sporco di colore inseriamoci nella colletta così e diamole un tono leggermente leggermente colorato benissimo a questo punto non ci rimane che è fare asciugare ben bene il tutto e vedere alla fine il risultato che ne verrà fuori adesso facciamo quella con la carta pacchi e questa la mettiamo ad asciugare prendiamo la nostra carta pacchi eccola qui tanto si appiccicherà il fondo che è già sporto spennelliamola io qua la spennello già con la colla leggermente colorata tanto non cambia assolutamente nulla ok fatto ciò come prima le inclusioni su tutto come prima incolliamole qui sono più abbondante di colla perché questa carta è meno porosa della precedente e quindi per far stare fermi i pezzi devo aggiungere più colla ma questo lo vedrete lavorando dipenderà molto dai tovaglioli di carta che usate da appunto la carta pacchica e grammatura si può fare con tutte cambia naturalmente la copiosità di colla da mettere prendo il tovagliolino e anche questa mettiamola ad asciugare e poi alla fine vedremo come è venuta ed ecco qui le nostre paglie dopo una completa asciugatura ora non ci rimane completa questa non è ancora del tutto completa ma voi lo sapete che è una fretta matta quando sto con voi quindi questa poi la andiamo a spezzettare tutta a mano tagliare il bordo così ed è pronta per essere utilizzata in 2000 lavoretti queste inclusioni bianche sono bolle d'aria se volete io naturalmente facendo tutti questi lavoretti con un'estrema fretta non vado che ci siano tante bolle d'aria ma se dovesse succedere alle vostre basterà ripassare di sopra con altra colletta e magari sporcata si sporcata un po' di colletta di quella sporcata con il colore e verrà perfetta come in tutte le altre parti immaginate lo usate in tantissimi lavoretti di creatività noi la useremo presto presto noi la useremo molto spesso credo per Natale potremmo fare anche dei connetti decorativi per il riso delle bomboniere per il riso degli sposi o dei connetti per delle bomboniere da neonato come vi ho fatto vedere nella cesta che cliccando qui troverete insomma utilizzate queste carte che vi faccio vedere come meglio la vostra fantasia vi suggerisce adesso io le ripulisco tutta vi lascio alle foto e noi ci rivediamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi è un metodo semplice e veloce per creare una carta divertente facile molto semplice da usare è molto molto semplice da realizzare con poco vedete si fanno grandi cose spero che questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando un bel pollice in su anche di carta va benissimo e condividete questo video se pensate che possa essere d'aiuto a qualche vostro amico a qualcuno che conoscete che mi rimane da dirvi lasciatemi tanti commenti in modo che io possa parlare con voi e rispondere a tutti i vostri commentini vi aspetto anche su facebook su instagram vi lascio i link qua sotto li chiacchieriamo in tempo reale continuamente e noi ci rivediamo al prossimo video vi mando un grande bacio da ombretta e d'arte per te è tutto arrivederci al prossimo video arrivederci al prossimo video